E' un piacere, sono contento, pensiamo a fare la visita e domani con i compagni. Salute ai tifosi, Jeremy. Un abbraccio a tutti. Con queste parole, atterrato a Bari, Jeremy Menezza ha salutato la sua nuova piazza, dove è stato accolto dal segretario generale Antonello Ippedico e da un discreto numero di tifosi che lo hanno atteso all'aeroporto per scattarsi in selfie di rito. Comincia l'era del francese a Bari, il terzo giocatore transalpino nella rosa dopo Schidler e Dorval. Menezza, atterrato da Parigi, si è subito recato a Bitonto al centro medicoterapia, dove ha svolto le visite mediche di rito, atteso dall'osteopata Francesco Loiacono, prima della firma del contratto con la società Biancorossa, contratto che lo legherà al Bari fino al 30 giugno 2024, con opzione per il rinnovo. Poche parole per l'attaccante transalpino, che lo scorso anno ha disputato 33 gare, mettendo a segno 5 reti con la maglia della regina, dove ha chiuso il triennio, con 13 gol in 69 partite. La piazza si aspetta tanto da lui, che in carriera ha ricoperto il ruolo di attaccante esterno, di falso 9 e di trequartista. Speriamo che avrà una buona stagione. Armato di penna e foglio. Sì, penna e foglio. E telefono per fare la foto. L'età spesso non fa fede, come hanno dimostrato i vari Brienz, Antenucci e Valerio Di Cesare, suo capitano quest'anno. Il giocatore sta raggiungendo i suoi nuovi compagni a Roccaraso. È partita ufficialmente l'era Menezza.